Musica Benvenuti picciotti sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo video vlog Video vlog dove vi spiego il mio segreto per riuscire a dormire poco e fare tanto e star sveglio tanto Molti quando io faccio le storie su Instagram, quando racconto, quando parliamo Così mi dicono ma Stulo o Andre a seconda come mi chiamano Ma tu come fai a dormire poco, a fare tutte queste cose, ad andare sempre in palestra, a fare video, a lavorare sempre Il segreto è uno Allora per la palestra, quindi l'attività fisica, il segreto è la forza di volontà Perché sapere che andando in palestra ti migliora il fisico Poi come vi ricordate io ho perso parecchi chili in quest'anno, appena passato Quindi anche lì volersi sempre migliorare, spingersi oltre, raggiungere magari lo step successivo Quello che ti può dire ok adesso da qua devo far quello per raggiungere e migliorarmi sempre di più Per quanto riguarda il sonno, questo qua è un segreto che in pochi sanno Com'è che funziona il sonno? Uno va a dormire, non si addormenta subito ma dopo un po' si addormenta E il problema è che uno va a letto, dorme e si addormenta Chi più o meno velocemente? Il segreto vero è se si dorme, se hai a disposizione 5 ore per dormire, 4 ore per dormire, 3 ore per dormire Non dormire tutte e 3 ore perché dopo un tot di tempo che varia da persona a persona si entra nella fase REM Quindi proprio quando il corpo non è che si spegne ma proprio rallenta tanto ed è pronto per dormire le sue 7-8 ore regolari Se noi riusciamo a dormire in modo da non entrare in quella fase Noi ci svegliamo e sì siamo stanchi perché siamo stanchi Però sentiamo meno la stanchezza perché il corpo si è riposato ma non abbastanza da poter dire che ha dormito poco Non so spiegarvi bene questo processo, è proprio così Quindi se tu hai a disposizione 3 ore per dormire non dormirne 3 ma dormi magari un'oretta, un'oretta e mezza Perché appunto il corpo si riposa senza raggiungere quella fase REM di stanchezza che poi ti fa svegliare ed sei proprio andato Sia molto, per esempio io questa tattica la uso quando sono in posa pranzo per esempio Per la posa pranzo della domenica io ho due ore di posa pranzo, dormo 40 minuti, ne sto sveglio 20 Dormo altri 40 minuti e ne sto sveglio 20 Così rientro al lavoro che sono abbastanza attivo, ovvio sono stanco, ho le occhiaie e si vede che sono stanco Però almeno è un continuo sbadigliare, è un continuo... avete capito Cosa uso per sta sveglio? Bevo caffè, qualche caffè, ovvio non tanti perché bello caffè comunque non è che faccia impazzire Però ogni tanto un caffè me lo bevo oppure la Red Bull, molte volte la Red Bull bevuta anche qua Ci sono due modi di bere la Red Bull Se tu bevi la Red Bull con calma l'effetto ti arriva dopo un po' Se tu invece la Red Bull la bevi velocemente come quando bevi una serie di shot alcolici che ti prendono subito Uguale la Red Bull, la caffeina e la taurina ti prendono subito quindi tu stai sveglio Queste sono strategie, sono tattiche che io ho sviluppato sapendo che è da inizio dicembre Che io nei weekend partendo dal venerdì, sabato e domenica io dormo tre ore in tutti e tre i giorni Dormo tre ore, non tre ore a notte, tre ore totali Mi sto un attimo ingegnando per scoprire nuove tattiche e nuovi metodi per sentir meno la stanchezza Poi ovvio, se capita il giorno che posso dormire sei ore è meglio dormirne sei che dormirne due Quello senza dubbio Questo qua è per dire che il corpo non è che ha bisogno delle otto ore di sonno Questo qua l'avevo letto, è stato uno studio fatto da uno scienziato Che lui per un anno dormiva mezz'ora ogni tre ore Lui tre ore dormiva, tre ore dormiva mezz'ora, tre ore dormiva mezz'ora Ha fatto così per un anno e dopo quest'anno ha potuto dire che quello lì appena trascorso è stato l'anno più produttivo della sua vita Perché appunto il giorno è composto da 24 ore Se tu stai sveglio tre ore e dormi mezz'ora alla fine hai dormito tre orette, quattro orette al giorno Solo che appunto essendo spezzettate così il corpo non entra nella famosa fase REM che vi ho detto prima E quindi se non sente la stanchezza, magari tu sei stanco ma non la senti la stanchezza Poi ovviamente non è che tutti possono fare così perché se uno può dormire ovviamente è meglio che dorma Se uno può riposare ovviamente è meglio che riposa ma chi come me che in settimana gli piace far tardi Perché comunque va in palestra ogni sera e gli piace giocare, gli piace far quello, gli piace far quell'altro Ma a letto tardi si sveglia e non mi sveglio presto la mattina Perché la mattina mi sveglio alle otto e mezza o alle nove Quindi potete capire che anche se vado a letto alle due comunque dormo sei barra sette ore Però ovviamente quando uno può dormire di più è meglio che dorma di più perché comunque il corpo ha bisogno di riposare Se no poi sta male, io arrivo veramente la domenica sera che sto male Non è che, sì ho 21 anni e tutto però comunque dormire tre ore in tre giorni e in quattro giorni lavorare 40 ore Non è una cosa normalissima, anche perché poi in quei giorni non riesco a fare niente se non lavorare Mi sveglio, lavoro, torno, ceno, mi sistemo, lavoro, ritorno, dormo un'oretta, lavoro, torno, ceno, mi sistemo, lavoro, torno, dormo un'oretta, lavoro, lavoro fino poi alla domenica sera La domenica sera poi non faccio niente perché sono morto, giustamente anche E nulla, queste cose sono un attimo le tattiche barra segreti, barra informazioni che vi ho voluto dare per riuscire a dormire poco O meglio per riuscire a vivere come vi voglio dormendo poco Quindi nulla, io vi ringrazio per la visione, lasciate like, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto, noi ci rivediamo ad un prossimo video Bella!